I piccoli artigiani aiutano il sistema sanitario regionale e nazionale, versando in queste ore i tributi e non usufruendo della proroga varata dal governo. Le imprese del territorio dunque hanno fatto la propria parte con un gesto significativo in un momento di estrema difficoltà economica e nonostante gli incassi di questi giorni riportino un inequivocabile numero zero e a rispondere, secondo quanto sottolineato dal direttore di Confartigianato Enrico Eva, è stata praticamente la totalità delle imprese affiliate. La proroga c'è ed è al 31 maggio, quindi imprese con ricavi inferiori ai 2 milioni di euro, la proroga è al 31 maggio per il versamento delle scadenze che venivano oggi, parliamo di Eva e parliamo di contributi dei ridipendenti. Le imprese sopra i 2 milioni di euro, la proroga è di una settimana e va a venerdì 20 marzo. Oggi Confartigianato ha fatto l'ennesima presa di posizione, ha invitato le proprie imprese, nonostante si sentiva nell'aria che ci sarebbe stata una proroga, di versare oggi i contributi previsti e la tassazione prevista. La stragrande maggioranza delle imprese ha versato oggi e non ha atteso la proroga, questo per sostenere il sistema sanitario nazionale e il sistema sanitario regionale. Ritengo sia una presa di posizione epocale delle imprese artigiane e in generale delle piccole imprese che si sono fidate ancora una volta di noi e stanno rispondendo alla battaglia sanitaria, che è la battaglia principale, con un'iniezione di liquidità al sistema. Io mi auguro che anche i grossi gruppi industriali effettuino quanto prima il versamento dei pagamenti e dei tributi. Lo Stato, e ricordiamoci per Stato, significa anche sanità, ha bisogno di risorse economiche. Mi fa piacere dire che i piccoli hanno risposto versando oggi, ritengo, su Trieste siamo un dato che ci avvicina, si avvicina al 100% dei versamenti.